La Lega ha poco da festeggiare perché la legge Fornero ha rovinato milioni di persone, noi siamo qua per raccogliere le firme, per cancellare la legge Fornero, vogliamo fare un referendum con cui gli italiani cancellino questa legge vergognosa, mentre i sindacati chiacchierano, noi siamo qua a offrire il pranzo a qualche centinaio di esodati, cassi integrati, disoccupati, artigiani rovinati, quindi CGL, Cisleville, Blattern e altrove, noi facciamo la festa per chi il lavoro lo sta cercando. I dati della disoccupazione sono il massimo dal dopoguerra, quindi con questo Euro che è una moneta sbagliata, con la riforma Fornero da cancellare il lavoro non riparte, quindi mi spiace che CGL e Cisleville siano i sindacati complici di questa strage di lavoro, oggi c'è poco da festeggiare, c'è tanto da costruire, quindi come Lega ci mettiamo a disposizione di chi il lavoro lo sta cercando, non di chi è già tutelato.